Vedete signori, quello che la gente non ha ancora capito di me è che io sono un vincente perché perdo spesso. Non ho capito. Ma mi ritorno, ma mi ritorno, ma mi ritorno in piedi, a differenza di tutti quelli che non vedono l'ora di perdere. Oggi c'erano 3.000 persone in questo stadio del cazzo. Che voglia di cazzo, mamma mia, allora io... Scusate se dico stadio, però vedo che, no, perché anche qui con le parolacce mi avete fatto due palle che non finivano più. C'avete le parolacce, c'avete niente? Stai a vedere le parolacce mie. Non dire parolacce, se no chiamo la polizia. Allora, vi voglio rammentare che 2.000 sono rimasti a mandarci a fanculo. Ma vattene a fanculo brutto frosso, schifoso, brutto frosso, schifoso! Questo che sai, una tifoseria. Perché dire no? Se facessero un giro in Inghilterra, imparassero a vedere cos'è il calcio. Non mi interesso, allora non hai capito? Non mi interesso! Noi vogliamo bene alla nostra squadra, altro che rifare uno stadio. Può darsi che butto giù questa e non ci ricostruisco una micchia. A me che cazzo me ne frega bene! Manco le 6 giornine del bar vi metto fuori. Ma c'è un po' di rabbia, va però... Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi diche? Altra domanda? Ah, scusate, no, telecamera. No, 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 no. Hai rotto il cazzo. No, non mi interesso. Non mi interessa a prendere la mancanica. Ma cazzo di rabbia mi diche è sulla un po' di rabbia. No, non mi interessa, ma cazzo. Grazie a tutti